Intanto rinnovo il mio ringraziamento ad Adriano che vedo connesso per l'invito. Per me è un piacere riuscire a fare qualcosa nell'ambito della storia bizantina, che non è esattamente il mio campo. Io sono un filologo, chiaramente la filologia è disciplina storica, ma mi occupo soprattutto di testi, di trasmissione di testi e nella fattispecie di testi liturgici, e più recentemente mi sono occupato di fozio, come si vede dalla locandina. È stata un'occasione per me di fare quest'anno qualche cosa di bizantino, perché quest'anno l'università mi ha fatto insegnare ecdotica, quindi cose più connesse alla filologia, ma non connesse al mondo bizantino. Ah, ciao Lorenzo. Allora, vediamo di rimettere le nostre diapositive, se riesco. Ecco qua. Abbiamo iniziato a facciare un piccolo ricapitolo di quello che abbiamo fatto l'altra volta. Intanto mi mando un timer, così evito di tediare gli ascoltatori per più di mezz'ora, massimo 40 minuti, prometto, poi stacco. Allora, si diceva di fare un corso sul cristianesimo bizantino, quindi abbiamo circostanziato questa parola, che abbiamo detto, è una parola che i bizantinisti usano ma che non amano, perché è una parola imprecisa, abbiamo dato una connotazione semantica intorno a quello che ruota intorno alla capitale dell'impero romano d'Oriente, latamente intesa, cioè nelle sue irradiazioni culturali nel Mediterraneo e anche oltre. E quindi abbiamo anche delimitato uno spettro cronologico che va dalla nascita alla morte di Costantinopoli. Abbiamo brevemente parlato del IV e del V secolo, non perché non siano importanti, ma perché sono mediamente percepiti dalle persone e anche probabilmente dai membri di questo gruppo come una sorta di appendice della storia romana, in effetti è a tutti gli effetti storia romana, quindi non è ancora il proprio bizantino nell'immaginario collettivo. Però, come qualcuno diceva, tutto è successo nel IV secolo, quindi non si può ignorare, specialmente parlando di storia della Chiesa, quello che è successo nei primi due concili, che sono quelli che definiscono il simbolo fondamentalmente, in cui avviene l'inquadramento primario della fede cattolica intesa come universale, cioè dell'impero romano, non come cattolica romana. Abbiamo visto brevemente che cosa dicono questi concili, torneremo su Calcedonia adesso, vediamo in quanti siamo connessi, ancora pochi, possiamo anche andare piano. Vediamo cosa c'era dopo. Il cristianesimo nel V secolo, in effetti abbiamo visto che alla fine del IV, all'inizio del V secolo, il cristianesimo è ancora cosa fondamentalmente orientale e al centro di tutto questo, al contrario di quanto magari uno potrebbe aspettarsi, non c'è Gerusalemme, ma c'è Costantinopoli. Si vede benissimo in questa cartina dove sono rappresentate le sedi metropolitane. Ricordiamoci che più si va avanti e più l'assetto della geografia ecclesiastica va ricalcando l'assetto amministrativo dell'impero d'Oriente. Quindi a città grande, importante, corrisponde una sede episcopale importante. E chiaramente la sede patriarcale è nella capitale, cioè Costantinopoli. La nuova Roma. Nuova Roma perché come Roma ha un senato e ha un imperatore. E siamo arrivati qua l'altra volta parlando un pochino della sistemazione che cerca di fare Giustiniano con l'accesso al suo regno e la riconquista di parte della parte occidentale dell'impero che era caduta in mani barbariche. che è una impresa lunga, difficile, dai risvolti alterni, condotta con disinvoltura sotto certi aspetti. Questo anche perché gli imperatori si fidavano dei loro generali fino a un certo punto, perché sappiamo benissimo che un generale di successo era in grado di capovolgere le sorti dell'impero e di farsi programmare se stesso imperatore. Quindi gli imperatori giocavano ma questo un po' per tutta la vita dell'impero romano dai severi in poi, diciamo, a non dare troppo potere ai generali perché sapevano che il generale poteva essere il prossimo imperatore al loro scapito. E questo, chiaramente, specialmente per la riconquista dell'Italia che si consuma drammaticamente in un periodo di tempo in realtà piuttosto lungo la spedizione militare di Giustiniano non è così vittoriosa nel senso che sì, inizialmente viene più o meno riconquistata la penisola ma intanto non è una conquista in duratura perché ci sarà di lì a poco l'invasione Longobarda e l'Italia sarà di fatto sprovvista di una difesa militare efficace ma soprattutto avrà un costo umano sociale elevatissimo tale che la conquista Longobarda segnerà più o meno definitivamente il confine tra la fine del mondo antico e l'inizio del Medioevo propriamente detto cioè la caduta di un mondo che in Oriente andrà avanti ancora un pochino. Allora parliamo eravamo arrivati alla politica ecclesiastica di Giustiniano quindi alla pervasività della legislazione civile all'interno di quella ecclesiastica e viceversa con la legislazione la canonistica prodotta dai dai concili che viene assunta positivamente dalla legislazione imperiale che si fa promotrice della sua implementazione nei territori sottomessi all'impero quindi questo avviene soprattutto nelle novelle quindi nella parte ultima del codice Giustiniano risistemato abbiamo visto dello sfondo religioso e abbiamo accennato brevemente alla questione dei tre capitoli quindi dell'intervento diretto di Giustiniano nella delicata gestione degli equilibri tra Nestoriani e Monofisiti nei quali Giustiniano non troppo non troppo velatamente si dispiega verso i Monofisiti non che fosse un Monofisita ma sicuramente era più verso i Monofisiti che non verso Nestoriani e per in qualche modo dimostrare questa tendenza condanna tre autori Nestoriani o cripto-Nestoriani del passato morti da tempo in questi tre capitoli approfondiamo un secondo il contesto allora qua c'è la mia faccia sopra ma qua dice polemiche cristologiche del sesto secolo perché perché non si può capire la politica di Giustiniano e dei suoi successori sebbene non si acchiara la situazione politica e religiosa perché questo è un drammatico intreccio specialmente in alcune province dell'impero nelle province orientali nelle province orientali dell'impero orientale attenzione quindi parliamo di Siria Egitto e Armenia soprattutto il lettore moderno si potrebbe chiedere perché o come mai le dispute cristologiche appassionassero così la gente tali da determinare sollevazioni di popolo la spiegazione è semplice non ricordo se era forse Gregorio di Nazianzo che si lamentava che quando andava a comprare il pesce il pescivendolo gli parlava dell'homo usios della consustanzialità era il tema di quel periodo degli anni 80 del quarto secolo il concetto è che nel quarto quinto sesto secolo non c'era grande fratello quindi fondamentalmente le persone parlavano di altro e a Costantinopoli c'era lo stadio quindi c'erano i blu i verdi e si scannavano peraltro proprio sotto Giustiniano ci fu la famosa rivolta della Nicà con migliaia di morti ma per il resto le cose di cui si interessava la gente erano anche le dispute religiose che poi diventavano una vera e propria bandierina politica quindi intere regioni si coagulavano intorno a un'idea non è dato capire fino a quanto la capissero poi gli strati magari più più modesti della popolazione però non non inganniamoci la gente parlava di questo fondamentalmente quindi sicuramente il il proprietario della taberna di Antiochia del quinto secolo sapeva dell'homo usios molto più di quanto non sappia il laureato in economia e commercio di oggi perché erano i temi che stavano sulla bocca di tutti in quel momento qua siamo nel sesto secolo quindi le questioni fondamentali trinitarie sono già state risolte in maniera definitiva dal concilio di Costantinopoli primo del 381 che aveva definito il simbolo trinitario in maniera abbastanza cristallina tale da essere capito da tutti adesso si trattava di capire nella persona nella seconda persona della trinità come potessero convivere il lato umano e quello divino tutto ruota intorno alla comprensione di queste due parole che ho scritto qui sopra in greco ipostasis e physis cioè ipostasi e natura la prima parola è molto interessante perché ha una storia una storia lunga è una parola che già troviamo consistentemente utilizzata in Aristotele ipostasis letteralmente è ciò che sta sotto quindi facciamo un facile calco con il latino diventa substanzia sostanza ma non è sempre stato così o meglio all'inizio della speculazione trinitaria cristiana tipicamente nel diciamo tra la fine del terzo o la metà del terzo e il quarto secolo l'inizio del quarto secolo ipostasis vuol dire effettivamente viene percepito però più come sostanza e così è capito anche in occidente come substanze poi che cosa succede? questa parola ha uno slittamento semantico cioè si capisce che era funzionale nella per come si stava costruendo la teologia trinitaria in oriente denotare con questo l'essema non tanto la sostanza cioè l'essenza ma ciò che sta sotto il carattere individuale di qualche cosa cioè ciò che distingue qualche cosa da qualcos'altro nella fattispecie si parlava delle persone trinitarie e quindi ipostasi diventa diciamo grosso modo dalla metà forse anche prima del quarto secolo in oriente comincia a denotare quella che noi oggi chiamiamo proprio ipostasi cioè la personalità chiamiamo così ciò che distingue la persona del padre da quella del figlio da quello dello spirito e che ne riassume il carattere principale cioè la paternità la filiazione e l'aspirazione questo processo non è compresamente atraumatico perché in occidente genererà parecchia confusione Agostino stesso ammette di non aver benissimo chiara la faccenda e parliamo di uno che ha scritto una cosa come Detrinitate peraltro non senza conseguenze questo misunderstanding di ciò che gli orientali volevano significare a un certo punto con ipostasis e quindi viene le parole diciamo dell'armamentario tecnico per descrivere la Trinità fondamentalmente diventeranno ipostasis cioè l'ipostasi usia la sostanza e physis la natura parliamo chiaramente del problema della natura umana e della natura divina di Cristo e qua entriamo nelle varie interpretazioni il concilio di Calcedonia celebrato nel 451 aveva proclamato abbiamo visto che in Gesù Cristo esistono contemporaneamente le due nature la natura umana e la natura divina che convivono in una sola persona questa famosa unione ipostatica senza confusione senza mutamento senza divisione e senza separazione potrebbe essere una dichiarazione omnicomprensiva vedremo che in realtà lasciava ampi margini di interpretazione è proprio su questi che si sviluppano le polemiche successive perché poi si percorre una linea sottile quando due nature si fondono in qualche misura in una sola persona in una sola ipostasi possono succedere un sacco di cose la prima è che una di queste due nature prende il sopravvento ed era la posizione di Eutiche Eutiche come spesso capita nella storia della chiesa era già successo con Ario era un pesce piccolo se vogliamo Ario era un semplice presbitero di Alessandria di Eutiche il massimo che riuscì a essere se non ricordo male fu un'archimandrita quindi una carica relativamente importante ma nell'ambito della della taxis monastica quindi era un monaco non era un un sacerdote cattedrale era un un monaco di Costantinopoli che però aveva il carattere di avere buone entrature nel palazzo imperiale e evidentemente di godere anche di un certo carisma nei confronti di questi contatti che intratteneva col palazzo imperiale tale che seppure in tarda età riuscì a portare alla ribalta l'idea che nella compresenza delle due nature in Cristo in effetti quella umana fosse completamente annichilita da quella divina quindi l'unica effettivamente natura presente in Cristo fosse quella divina questa posizione così estremista di questo monofisismo di prima generazione come pure lo era stato l'arianesimo di prima generazione ha una vita relativamente breve tuttavia le posizioni monofisite semi-monofisite cripto-monofisite attecchiscono specialmente nelle regioni orientali come dicevo in Siria in Egitto e in Armenia dove godranno di di fortuna longeva per per molto tempo a Costantinopoli ma in realtà un po' ovunque si diffondono delle altre modalità più soft di monofisismo in una incappa lo stesso giustiniano e questo tartodocetismo in realtà non particolarmente importante l'ho messo qui per dovere di cronaca insomma è una variabile del monofisismo più soft che parlava della impossibilità del verbo incarnato di essere fisicamente corruttibile siamo a livello di pura speculazione chiaramente il viceversa il cosiddetto miafisismo sembra un sinonimo in effetti lo è nel senso che monos vuol dire una sola cosa una sola e mia is mia n vuol dire uno uno di numero il miafisismo è un'altra corrente sempre mitigata di monofisismo questa volta promossa da Severo di Antiochia un autore molto importante del quale proprio perché è incappato in questa in questa forma di monofisismo ci rimane pochissimo in greco ma ci rimane parecchio di più in in siriaco questo fu con vita travagliata patriarca di Antiochia costretto a dimettersi un paio di volte di scappare in Egitto tutte le volte che l'imperatore di turno lo desalonizzava e era promotore di una di una forma di monofisismo che si che diciamo si rifaceva portava alle estreme conclusioni ciò che era già stato detto da Cirillo di Alessandria cioè che le due nature erano presenti ma erano completamente fuse e alla fine di natura ce n'era una sola in poche parole la differenza tra il il duofisismo quindi l'approccio calcedonese e il miafisismo può essere sottile per un lettore contemporaneo in realtà non lo era per un per un contemporaneo di Severo d'Antiochia e poi soprattutto dobbiamo considerare che spesso o quasi sempre intorno a queste definizioni poi si andavano a coagulare delle vere e proprie partigianerie perché ricordiamoci che è vero che l'impero garantiva la giustizia la solidità dei confini più o meno la pace sociale eccetera ma è anche vero che per mantenere tutte queste cose in un'epoca particolarmente travagliata come il VI secolo la macchina del governo bizantino o meglio romano orientale era una incredibile macchina di tasse quindi la popolazione era spremuta e chiaramente le regioni più ricche parlo soprattutto del delta del Nilo e la regione di Antiochia avevano più di un motivo per essere non particolarmente felici di essere il principale serbatoio economico della capitale capitale che peraltro era dipendente ad esempio da Alessandria per quello che riguarda l'approvvigionamento del grano ricordiamoci che i grandi bacini di riserva del grano nell'antichità erano il delta del Nilo e la Sicilia dall'altro spettro dell'altra parte della scacchiera rispetto ai monofisiti c'erano i nestoriani come abbiamo visto i nestoriani vedevano invece della preponderanza della natura divina la preponderanza della natura umana quindi in Gesù Cristo c'erano effettivamente due nature ma ognuna di queste nature corrispondeva a una persona e queste due nature non esistevano contemporaneamente quindi il Gesù terreno nasce effettivamente come un uomo di qui la logica conseguenza di chiamare Maria madre di Cristo e non madre di Dio ciò che verrà condannato nel concilio di Efeso e il problema è che queste due nature non potevano coabitare convivere e quindi necessariamente in Cristo ci doveva essere la separazione di queste due nature con la chiara preponderanza almeno per quello che riguarda l'aspetto della vita umana di Gesù della natura umana quindi questo è il contesto un po' per inquadrare in quali guai si trovava Giustiniano ma anche chiaramente i suoi successori cioè quello di dover tenere insieme l'ortodossia calcedoniana due fisita quando in realtà esistevano ampie sacche centrifughe di nestorianismo specialmente nella parte proprio est-est quella più vicina al confine persiano per capirci ma sempre in Siria ricordiamoci che dal punto di vista teologico la base dei nestoriani era la cosiddetta scuola di Antiochia mentre per i monofisiti era più la scuola di Alessandria quindi la scuola di Alessandria che aveva un grande retroterra platonico e chiaramente era più propensa a dare peso alla natura divina la scuola di Antiochia la scuola esegetica e teologica di Antiochia che aveva un'interpretazione più storico-letteraria della scrittura diciamo così era chiaramente più propensa a dar peso alla natura umana di Cristo quindi questo è il contesto in linea di Massio nel quale si trovano a combattere i nostri protagonisti cosa abbiamo qua allora il sesto secolo nella letteratura religiosa il sesto secolo al contrario del quarto soprattutto del quarto quinto non è un secolo particolarmente ricco di autori religiosi il motivo ci sono sicuramente vari motivi uno è sicuramente di carattere pratico vediamo un attimo anche il tempo che sta passando scusatemi 23 minuti di carattere pratico perché perché nel sesto secolo la parte occidentale dell'impero era di fatto perduta e comunque se non era perduta era in disastro in dissesto dal punto di vista culturale se togliamo Boezio e Cassiodoro in occidente c'è un gran poco in quest'epoca non che prima rispetto all'oriente l'occidente abbia prodotto chissà quanti e chissà quali autori però c'è stato un ambrogio ad esempio c'è stato un girolamo c'è stato un agostino quindi un contributo occidentale importante c'è stato chiaramente la grossa parte l'intelligenza quella che poi in effetti arriva allo sviluppo del dogma è fondamentalmente tutto orientale a maggior ragione nel sesto secolo per le ragioni politiche che abbiamo visto allora ho selezionato tre autori o comunque tre gruppi diciamo così che ritengo essere significativi e esemplificativi di questo secolo forse sono anche i più importanti il primo è il cosiddetto corpus areopagiticum che prende il nome da Dionigi areopagita Dionigi areopagita è come spesso capita un personaggio del tutto secondario del nuovo testamento lo troviamo nel capitolo 17 degli Atti degli Apostoli dove Paolo tiene il suo famoso discorso all'areopago il famoso discorso che si conclude con la sufficienza degli suoi auditori che dicono ok adesso che ci hai parlato la resurrezione su questo magari ci dirai un'altra volta il capitolo si conclude torna ai versetti 32 34 dicendo che però alcuni degli uditori di Paolo furono convinti e tra questi c'erano appunto Dionigi areopagita e la diagonessa febbe forse non mi ricordo chi era l'altro mi sembra una donna Dionigi areopagita come dicevo accade in altre occasioni personaggi marginali del nuovo testamento era accaduto a sino un mago è accaduto alla Maria di Magdala diventano un pretesto pseudoepigrafico per dare autorialità a una cosa che non c'entra assolutamente nulla col personaggio nella fattispecie parliamo di quest'insieme di trattati trattati filosofico teologici diciamo così che sono un po' al confine tra la filosofia e la teologia scritti verosimilmente sul finire del quinto secolo ma che compaiono citati nella letteratura contemporanea dopo l'anno 528 quindi diciamo composti sul finire del quinto all'inizio del sesto non sappiamo non sappiamo esattamente ma che avranno una grande importanza nel futuro questo corpus che chiaramente non ha scritto il povero Dionigi Areopagita ma che è stato attribuito a lui per dare come in tutta la letteratura apocrifa per dare autorevolezza al testo è un trattato quadripartito ho scritto i titoli delle quattro sezioni principali in coda ci sono dieci epistole ognuna di queste sezioni descrive una parte e costituisce una parte del trattato che descrive la visione del cristianesimo di Dionigi o di questo pseudo Dionigi è una visione estremamente particolare perché alcuni dicono che di cristiano non ha molto in effetti è un singolarissimo blend per usare un termine vinicolo enologico di neoplatonismo e di cristianesimo ma cristianesimo molto post niceno c'è un cristianesimo che già assume tutto quello che era stato detto nei primi concili almeno fino a Calcedonia perché ne assume la terminologia ma ad esempio la terminologia sulla madre di Dio quindi assume la terminologia del concilio di Efeso la terminologia trinitaria sistematizzata dai primi due concili e poi l'essico tecnico relativo alle parole che abbiamo visto ipostesis physis eccetera che è bagaglio della trattatistica successiva è così smaccatamente chiaro che non poteva essere un trattato di un contemporaneo di Paolo cioè del primo secolo che i bizantini con le virgolette del caso se ne erano accorti già da tempo tant'è che nel primo capitolo della biblioteca di Fozio dedicato per l'appunto a Dionigi Areopagita e si elencano i motivi per cui difficilmente questo questo testo poteva essere attribuito a Dionigi in realtà poi gli autori i cosiddetti padri della chiesa non è che si interessassero moltissimo se una cosa era tradizionalmente attribuita a Dionigi Areopagita va bene di Dionigi Areopagita senza grosse discussioni magari persone come Fozio con un po' di più pelo sulla lingua potevano anche permettersi di pensare qualche cosa di diverso ma poi magari quando si trattava di fare esternazioni pubbliche probabilmente avrebbero mantenuto la l'attribuzione originale comunque senza entrare in questo discorso che ci porterebbe molto lontano che cosa è il corpus Areopagitico fondamentalmente è la traduzione del neoplatonismo come era arrivato nelle mani del suo estensore quindi un neoplatonismo che aveva maturato nella sua nascita da Plotino fino anche prima diciamo da Filone dal medioplatonismo fino a Proplo e che viene piegato alle esigenze del cristianesimo si è molto discusso del perché questo accada cioè se era un'operazione per convincere i pagani cosa non impossibile se consideriamo che l'accademia platonica fino agli inizi del VI secolo continuava a funzionare quindi esisteva ancora una sacca ancorché non eccezionalmente ampia di intelligenza pagana oppure era semplicemente un modo per un originale sincretismo comunque fondamentalmente sapete come funziona il sistema neoplatonico per sommi capi è un sistema emanazionistico in cui ci sta una prima causa un uno una causa che al di là dell'essere che non si può descrivere che si emana in con una gerarchia di livelli laddove al primo posto troviamo per l'appunto l'uno l'essere e poi l'intelletto e l'anima in un depotenziamento nel quale a vario titolo quelli che stanno in fondo alla catena sono chiamati a risalire a fare il percorso a ritroso chiaramente da Plotino a Proclo qualcosa era cambiato Proclo ad esempio aveva innovato il neoplatonismo che era più concettuale di Plotino l'aveva infarcito di elementi religiosi queste enadi di cui di cui parla Proclo di fatto sono gli dei pagani quindi questi tre livelli di depotenziamento dell'uno che è al centro del mondo neoplatonico si popolano di altre entità che per Proclo sono le enadi ma che assumeranno vari nomi non penso di andare troppo lontano a dire che i logoi di Massimo il Confessore null'altro sono che un'altra cosa che popola questo universo di esseri intermedi più o meno ipostatizzati che comunque attengono al depotenziamento dell'uno comunque sono contenuti dentro l'uno perché l'uno contiene tutto seppur depotenziandosi ho chiaramente una visione di questo genere è molto lontana dal pensiamo all'approccio nestoriano è molto lontana dal cristianesimo che pone interesse e accento sulla sofferenza sulla croce sulla risurrezione tutta questa roba non interessa minimamente a a chi ha un approccio così smaccatamente neoplatonico però a noi interessa questa cosa cioè interessa più che altro per quello che per come si potrebbe dire per la virkungsgeschichte per la per dirla con Gadamer per la storia degli effetti cioè per gli effetti che questo testo che sarà così letto nell'antichità avrà sul mondo bizantino fondamentalmente ne elenco due perché sono i più importanti adesso senza che entriamo nei dettagli il primo è che un approccio così orientato implica una visione di teologia negativa cioè mentre il cristianesimo occidentale non tanto in questa fase ma quanto in quella successiva penso soprattutto alla scolastica che piace tanto al mio amico Adriano cercherà di descrivere per filo e per segno e in via positiva tutto quello che Dio è fa e pensa il cristianesimo orientale proprio sulla scorta di questo approccio di matrice neoplatonica se vogliamo tenderà sempre a descrivere Dio per via negativa cioè per ciò che non è o se preferite con un approccio catafatico approccio apofatico e catafatico catafatico è quello che dice ciò che ciò che uno non è o si esprime per negazione questa teologia negativa già era presente in Nuce in Platone pensiamo al Teteto al Parmenil eccetera ma appare abbastanza chiaramente in filone e poi via via diventa massima in Plotino e in Procure così come pari pari viene riutilizzata nel corpus Areopagiticum quindi la prima cosa è questa che in effetti forma una mentalità in generale l'uomo bizantino sarà meno propenso dell'uomo latino a descrivere Dio lascerà più spazio al mistero se vogliamo il secondo aspetto per il quale il corpo Areopagitico è importante è quello liturgico perché nella gerarchia celeste lo pseudodionigi ci dà un'angelologia estremamente complicata cioè questi tre ordini che corrispondono ai tre ordini di potenziamento dell'En neoplatonico corrispondono anche tre livelli di angeli ognuno dei quali è ulteriormente diviso in tre e tutta questa cosmologia tutte queste gerarchie angeliche descrivono una sorta di rituale permanente che si celebra alla corte di Dio che cosa succede che questa cosa verrà assunta dalla chiesa quando si troverà e ci si trova costantemente a costruire i suoi testi liturgici perché non dobbiamo pensare che il testo della liturgia o del rito sia in qualche cosa di statico ma proprio in questa fase nel sesto secolo è in grande fase di accrescimento noi dobbiamo immaginare che i riti la liturgia che si poteva celebrare all'inizio del quarto secolo fosse una cosa estremamente semplice fosse probabilmente ridotta all'anafora e poco più più si va avanti e più elementi vengono aggiunti più elementi di complessità vengono aggiunti alla liturgia e questi elementi tengono conto di questo rituale celeste quindi si cerca di riprodurre sia nelle architetture nella decorazione nella disposizione degli erredi nella disposizione delle persone che celebrano della chiesa che nei testi che vengono utilizzati di riprodurre sulla terra la liturgia celeste celebrata dagli angeli incessantemente e quindi queste due cose rimarranno questa mentalità di questa teologia negativa di fondo negativa appunto nel senso di apofatica e la pervasività nell'ambito della liturgia saranno due tratti che accompagneranno tutta la vita dell'impero bizantino cioè ce li portiamo avanti fino alla caduta di Costantinopoli per questo è così importante non perché sia una lettura esaltante io penso che abbiamo fatto abbastanza tardi in realtà vi volevo leggere delle cose vi leggo vi leggo un pezzetto del corpus areopagitico lo prendo da e ritorno alla mia faccia a questo punto ecco qua lo prendo dalla principale e vi leggo un pezzetto della della teologia mistica sulla causa universale questo vi dà idea di di che cosa stiamo parlando ma anche un po' del tenore dello stile letterario diciamo dunque che la causa universale superiore a tutte le cose non è priva di essenza di vita di ragione di intelligenza non è neppure un corpo e non possiede né una figura né una forma né una qualità né una quantità né un peso non si trova in nessun luogo non è visibile né può essere toccata materialmente non ha sensazioni né è oggetto di sensazioni né disturbata da passioni materiali né fa albergare in sé il disordine e la confusione non è neppure priva di forza come se fosse soggetta alle vicissitudini nel mondo sensibile né ha bisogno della luce non ammette in sé il cambiamento né la corruzione né la divisione né la privazione né lo scorrimento né alcun'altra cosa sensibile e non è neppure qualcuna di queste cose procedendo quindi nella nostra ascesa ecco ritorna il tema della ascesa diciamo che la causa universale non è né anima né intelligenza e non possiede né immaginazione né opinione né parola né pensiero che essa stessa non è né parola né pensiero e che non è non è oggetto né di discorso né di pensiero non è numero né ordine né grandezza né piccolezza né uguaglianza né disuguaglianza né somiglianza né dissomiglianza non sta ferma né si muove né rimane quieta né possiede una forza né è una forza non è luce non vive non è vita non è né essenza né eternità né tempo non ammette neanche un contatto intellegibile questo è molto importante il fatto che non ammette un contatto intellegibile quindi si può conoscere al massimo per una partecipazione qui entra di nuovo il tema procleano della teurgia non è né scienza né verità né regno né sapienza non è né uno né unità né divinità né bontà non è neppure spirito per quanto ne sappiamo non è figliolanza né paternità né qualcuna delle cose che possono essere conosciute da noi o da qualche altro essere non è nessuno dei non esseri e nessuno degli esseri né gli esseri la conoscono in quanto esiste eppure essa conosce gli esseri in quanto esseri a proposito di essa non esistono né discorsi né nomi né conoscenza non è né tenebra né luce né errore né verità non esistono affatto a proposito di essa né affermazioni né negazioni quando facciamo delle affermazioni o delle negazioni a proposito delle realtà che vengono dopo di essa noi non la affermiamo né la neghiamo in effetti la causa perfetta ed unitaria di tutte le cose è al di sopra di ogni affermazione e l'eccellenza di colui che è assolutamente staccato da tutto e al di sopra di tutto è superiore ad ogni negazione questo vi dà un po' l'idea di che cosa è il corpus aereopagitico non è esattamente una lettura esaltante non una cosa da ombrellone ma importante per i due aspetti che vi dicevo ed è importante soprattutto perché ebbe un grosso successo nell'antichità forse complice anche il fatto della pseudepigrafia allora vediamo un po' se possiamo dire qualche altra cosa ma credo di no abbiamo superato i 40 minuti vi parlerò delle altre cose il prossimo giro e attaccheremo penso anche il settimo secolo non so quando intanto se ci sono sfora pure vediamo un attimo non vorrete diarvi ragazzi se volete vado avanti un pochino di più ma vediamo che cosa abbiamo dopo solo una cosa se no veramente facciamo notte abbiamo Romano e il Melode diciamo due parole su Romano e il Melode Romano e il Melode perché l'ho messo qua perché è il capostipite di un genere letterario importantissimo per la cultura bizantina quindi è importante sia sul piano letterario non interessa il piano ecclesiastico Romano e il Melode era comunque un monaco tutta la letteratura no non proprio tutta ma insomma buona parte della letteratura bizantina è una letteratura religiosa cioè che nasce in ambienti religiosi ed è destinata anche ad ambienti religiosi ma anche quella profana salvo qualche eccezione è comunque una letteratura profondamente pervasa di temi religiosi ed è per questo che l'ho inserita in questa trattazione comunque Romano e il Melode a tutti gli effetti è un autore ecclesiastico importantissimo perché è quello che inventa un genere che ancora oggi se voi partecipate ad una liturgia cosiddetta bizantina una liturgia ortodosso orientale qualunque trovate nell'innografia chiaramente ciò che si canta in chiesa e dicevo Romano il Melode era nato ad Emesa che è l'attuale Homs in Siria ma poi si trasferisce a Costantinopoli dove sarà anche nel nel clero di Santa Sofia a lui sono attribuiti 85 contachia condaci contaci poi la la terminologia su questo si può si può discutere la normalizzazione in italiano del dell'emma contachion c'è chi dice contaci c'è chi dice contaci 85 sono attribuiti a lui buona parte di questi sono sicuramente originali il condacio è quel genere letterario che lui porta a grande successo ha una struttura ripetibile è fatta da una introduzione che si chiama cuculio che termina con un ritornello con un refrain poi seguono delle stanze cioè dei dei blocchi degli ichi quindi delle stanze delle case comunque si chiamano stanze dal punto di vista tecnico e normalmente dopo ognuno di queste stanze si conclude sempre con questo ritornello e alla fine normalmente c'è una preghiera spesso e volentieri nascosto all'interno della sequenza di questi ichi c'è un acrostico cioè si prende l'iniziale del esempio dell'inizio di ogni stanza o comunque all'interno della composizione la prima lettera si mettono assieme e questo fa una una frase dove dentro spesso è nascosto il nome dell'autore e nella fattispecie di romano il suo acrostico è del del povero monaco romano qualcosa del genere e quindi anche da lì vediamo la eventuale originalità del contachion oppure no e curiosamente il romano in melode è famoso in tutta la cristianità orientale per essere l'autore del famosissimo avrete probabilmente sentito inno acatistos alla madre di dio dico curiosamente perché molto probabilmente non è l'autore cioè romano il melode è uno che ha portato alla massima diffusione al grandissimo successo del genere della contachion ma probabilmente non è l'autore dell'inno alla madre di dio che cosa volevo dire ultimamente del contachion che non c'entra molto con la diciamo l'aspetto ecclesiastico però c'è un anche qua vedete quando trapassa il mondo antico qua siamo in un'epoca che ancora ha tutti gli effetti antichità ma qualcosa sta cambiando anche nella letteratura qualcosa cambia nella fattispecie ve ne sarete forse accorti qualcuno di voi dalla mia pronuncia che è una pronuncia non erasmiana ma è una pronuncia più vicina a quella del greco moderno che cosa succede? proprio con i contachia di romano il melode la metrica di queste composizioni passa da quella classica basata sulla durata sulla lunghezza delle sillabe a una metrica accentuativa che è quella che si usa anche oggi nella poesia contemporanea che è anche un pochino più semplice per le nostre orecchie perché? perché nel mentre la lingua era evoluta si era persa la nozione della lunghezza delle delle vocali e dei dittonghi quindi ad esempio la lettera eta che probabilmente in età arcaica o merica forse anche classica si leggeva e o e in sicuramente ai tempi di romano il melode si leggeva i ed era probabilmente difficile o quasi impossibile distinguere dalla iota semplice o anche dal dittongo omicron iota erano tutte i e anche dalla y anche quella veniva pronunciata i donde il famoso fenomeno dell'itacismo cioè della confusione nel nei manoscritti di questi suoni vocalici proprio per il fatto che venivano pronunciate allo stesso modo però senza entrare in questioni filologiche che possono essere appassionanti ma che non riguardano la storia ecclesiastica vi leggo un pezzetto di romano il melode anzi prima vi leggo un pezzetto della della catistosa la madre di dio ve lo leggo in una buona traduzione scherzavo questo ve l'ho fatto io in realtà questo è dal receptus slavo a te prode condottiera vittoriosa noi tuoi servi scampati dai mali dedichiamo canti di ringraziamento o madre di dio ma poiché possiedi un'invincibile potenza liberaci da ogni sciagura finché noi ti chiamiamo salve sposa non sposata questo salve sposa non sposata è il famoso refrain mentre questa prima parte che abbiamo letto è l'inizio che precede l'eco l'eco 1 che dice così vi leggo solo primo chiaramente sono tutti uguali la struttura si ripete a livello di struttura sono tutti uguali l'angelo supremo fu mandato dal cielo per dire alla madre di dio salve e vedendo te signore prendere forma corporea stette con timore e si rivolse a lei con voce incorporea gridando salve tu per cui risplenderà la gioia salve tu per cui cesserà la maledizione salve tu che richiami dall'esilio il caduto Adamo salve riscatto delle lacrime di Eva salve altezza che supera i pensieri umani salve profondità imperscrutabile anche agli occhi degli angeli salve tu che sei il trono del re salve poiché porti colui che tutto porta salve stella che manifesti il sole salve grembo della divina incarnazione salve tu per cui si rinnova la creazione salve tu per cui ci prosterniamo al creatore salve sposano sposata questo è l'inizio del più famoso acatisto se ne esistono un'infinità ormai perché sono tutti ricalcati su questo qui vi leggo brevissimamente un pezzo invece del vero romano il melode lo prendiamo dalla dalla antologia di Raffaele Cantarella sui poeti bizantini e questo è romano e dice or su fedeli tutti veneriamo Cristo il salvatore e benigno il figlio di Dio e longanime il signore solo immortale che le schiere degli angeli cantano il popolo degli esseri incorporei glorifica dalle igne e bocche acclamano con voci tre volte santi inneggiano cantando l'inno tre volte santo offrendo elogio vittorioso celebrano il padre e il signore il figlio sullo stesso trono dello spirito nell'essenza e unità inscindibile si distingue in tre persone la potenza super divina è onorata e cantata da tutta la creazione vergine madre di Dio onnipotente non disdegnare noi tuoi servi pericolanti nel turbine della vita e gettati in balia di una fiera che non sta ferma eccelsa fare le potenze celesti colomba orificata dallo spirito gloria e vanto degli apostoli accordo di profeti e martiri e soccorso di tutto il mondo torre intrecciatissima d'oro e onoratissima città dalle dodici porte paradiso gratissima arca di aromi dello spirito santo muro invincibile sostegno baluardo dei fedeli re e difesa delle pie anime protezione dei santi corpi te celebriamo signore immacolata il figlio tuo cantiamo e signore il cristo è il solo benigno affinché troviamo grazie e pietà nel giorno del giudizio signora allora signore signore salvami del fuoco innestinguibile riscattami poiché il malignissimo satama non mi prenda perché tu non abbia a mostrarmi gioia dei demoni perché io solo peccai l'anima e il corpo macchiai e la mia vita tutta insozzai non so che fare il misero perciò ti grido questa parola peccai come il dissoluto venni e prego come la prostituta piangendo lacrime ma tu signore signore proteggimi dal fango delle azioni e salvami come buon pastore non lasciarmi caduto nei dirupi delle passioni portami via seppellito nelle passioni e con la divina tua luce purificami affinché io vegga la santa immagine tua in pura coscienza e proclami a te in vero spetta onore e venerazione al padre al figlio con lo spirito da parte di tutta la creazione per i secoli dei secoli o benigno e questo era romano il melode importante perché appunto inventa o reinventa un genere letterario che gode di massima saluta perché lo trovate tuttora in questi testi qua che sono alle mie spalle questo è l'antologion cioè la eccolo qua i testi che si usano tuttora nella chiesa greca questi sono quattro volumi ma è solo una piccolissima parte qui dentro trovate questo genere letterario va bene io direi che vi ho tediato abbastanza rimango qualche minuto se ci sono domande rimetto momentaneamente la mia bellissima faccia ecco qua una una può essere sufficiente allora vediamo che ci dice sulla non generazione come elemento distintivo tra le due nature di Cristo è anche qualcosa su unione e incarnazione allora sulla seconda cosa in effetti è molto più attuale il tema dell'unione è un è un po' la la chiave che apre tutte le porte perché dico attuale perché in tempi recenti non so se forse la domanda allude a questo le chiese cosiddette precalcedoniane parlo della chiesa copta ma anche della chiesa etiope che è stata copta cioè dipendente dal patriarcato d'Alessandria fino ai tempi di Aileserassie quindi non troppo tempo fa basano il loro anticalcedonismo o criptomonofisismo su questo concetto di unione cioè che in effetti le due nature non sono così perfettamente separate come vorrebbe il dogma calcedoniano ma sono unite nella stessa persona è una distinzione sottile molto sottile tant'è che sotto Giovanni Paolo II c'è stato una sorta di intesa che poi a questa è seguita un'altra intesa con invece le chiese ortodosse per le quali esiste una sorta di comunione di fatto con la chiesa copta sia da parte della chiesa cattolica che da parte della chiesa ortodossa perché questo concetto di unione è nella sua ambiguità abbastanza rispettoso del 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 dogma calcedoniano anche se poi vedremo che nel secondo concetto di Costantinopoli ci saranno delle ulteriori precisazioni tal che qualcuno parla di neocalcedonismo però se ti dovessi dire qui entriamo in speculazioni teologiche che si svolgono spesso sul filo della terminologia sulla non generazione come elemento distintivo tra le due nature di Cristo non lo so non mi viene in mente niente perché il Gesù non è generato ma è nato e il logos è generato ab eterno si può essere non mi viene in mente nessuno nessun autore ecclesiastico che che utilizza questo argomento quantomeno nell'ambito della polemica sulle due nature però certamente la generazione come termine tecnico è un processo che avviene fuori dal tempo cioè il logos è eternamente generato dal padre questo chiaramente non vale per la umanità di Gesù che invece nasce secondo i criteri dell'umanità quindi non è una generazione è una generazione secondo la carne che non ha nulla a che fare con la generazione intesa come lessico tecnico trinitario non ho idea se qualcuno ha utilizzato questa cosa per parlare delle annunature forse sì non non lo so considerate anche questa cosa che io mi occupo specialmente di testi liturgici e di filioque quindi sì ho chiaramente ho letto qualche cosa sui sui padri della chiesa sulle dispute trinitarie e post trinitarie ma potrei non essere un super esperto va bene allora io non vedo ci sono 12 commenti vediamo un po' se ci sono altre cose un secondo solo non so perché ne riesco a vedere solo 4 di commenti adesso ce ne sono 13 ma sempre 4 ne vedo vabbè niente diciamo che eventualmente vi rispondo offline appena chiudo che riuscirò a vedere anche gli altri va bene ci riaggiorniamo alla prossima non vi so dire quando potrà essere stiamo andando molto lentamente adesso magari mi direte voi se questo approccio è troppo introduttivo se è troppo tecnico se va bene chiaramente di questo passo facciamo un secolo per volta a voglia lezioni di storia del cristianesimo comunque insomma come volete voi ci aggiorniamo un saluto a tutti e arrivederci a tutti